Ciao a tutti! Oggi realizzo insieme a voi queste splendide palline di Natale. Potete riciclare tutti gli avanzi di gomma Eva. Con queste palline il vostro albero di Natale sarà più luminoso e pieno di colori. Ora vado a realizzare dei quadrati un centimetro per un centimetro. Ho preso delle striscette larghe un centimetro, poi ho posizionato il metro in questo modo. Prendo la striscetta, poggio le forbici su un centimetro e inizio a tagliare. Realizzando così tanti quadratini, in più colori. Si possono utilizzare tutti gli scarti di gomma Eva glitterata. Per realizzare questa pallina ho utilizzato una sfera con diametro di 7 centimetri. Utilizzando una sfera più grande, i quadrati si possono realizzare più grandi. Ora vado ad appoggiare i quadrati su una piastra. La metto alla massima temperatura. Quando i quadratini si sono gonfiati, li vado a togliere. Dando così volume al quadrato. Si può utilizzare anche un ferro da stiro, mettendolo sempre alla massima temperatura. Ho deciso di realizzare questa pallina in più colori. Ed eccoli tutti pronti. Prendo una penna e vado a tracciare una linea intorno alla circonferenza, dove c'è già il segno della metà. Così quando vado ad incollare è visibile. Ora inizio ad incollare il primo quadrato. Lo vado ad incollare proprio sulla metà. Incollo anche il secondo quadrato. Vado ad incollare tutto intorno completando il primo giro. A presto. Sì. 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 Dopo aver incollato il primo giro procedo a realizzare il secondo giro. Nel secondo giro il quadrato lo vado ad incollare in questo modo. Procedo così ad incollare quelli successivi. Mi aiuto con una pinzetta. I quadratini sono bombati, così quando c'è bisogno di schiacciarli gli angoli vanno leggermente ad aprirsi e a chiudere gli spazi vuoti. Questi quadratini alla fine non risultano tutti uguali, perché quando li riscaldo e restano un po' di più sulla piastra tendono a restringersi. Vado ad incollare il terzo giro. Nel terzo giro può capitare che rimane qualche piccolo angolo senza la gomma eva. Però con l'aiuto della pinzetta vado ad aprire l'angolo e lo ricopro. Può capitare che rimane qualche angolo senza la gomma eva. quindi vado a tagliare un pezzettino dello stesso colore e lo vado ad incollare. Procedo ad incollare. faccio in modo di trovarmi con i quadrati. Schiacciando con la pinzetta l'angolo va ad aprirsi. Ora vado a fare la chiusura al lato sotto in modo preciso. ho completato di incollare la prima metà in modo perfetto. Ora vado ad incollare la seconda metà lasciando sopra lo spazio per aggiungere un cordoncino. guardate schiacciando l'angolo si va ad aprire e quindi va a chiudere lo spazio vuoto. Se c'è bisogno di un quadrato più piccolo lo vado a tagliare. Questa pallina la potete realizzare nei colori che desiderate. così si possono sfruttare tutti gli avanzi di gomma eva. Chiudo in modo preciso lasciando lo spazio per attaccare un rotolino con dentro il cordoncino. prendo una striscetta un paio di centimetri larga e la vado a piegare in due in questo modo inserendo all'interno il cordoncino. Lascio asciugare e vado ad avvolgerla. realizzando così un piccolo rotolino. Quando la colla si è raffreddata vado ad assemblare tutto. vado a tagliare dei piccoli quadratini per fare una chiusura perfetta. lasciando solo lo spazio per attaccare il rotolino. con poco ho realizzato una bellissima pallina. se vi è piaciuto questo video mi date un like, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina e condividete. www.mesmerism.info